Ulimbi in gara tra i giovani a Sanremo 2018, ci racconti la tua storia, come sei arrivato fino a qua? Sono arrivato fino a... è lunga la storia, però sono arrivato fino a qua semplicemente provandoci, scrivendo una canzone a prescindere da Sanremo, in realtà non pensando di fare la Sanremata, ho scritto quello che avrei messo nel mio prossimo album sicuramente, e poi è andata, come sappiamo. Il mago, la tua canzone, una canzone particolare, messa in scena in maniera particolare, puoi raccontarcela velocemente? Certo, allora, il mago nel senso che ritengo che oggigiorno la magia probabilmente sia non suicidarsi dopo la successione di sfighe che ci contorna il quotidiano, ok? Perché c'è il buono tutti i giorni e in qualsiasi cosa, e c'è anche il cattivo tutti i giorni in qualsiasi cosa. Perciò la magia o la non stupidità, diciamo, è non focalizzarsi esclusivamente sulle cose che vanno male, perché vanno male a tutti, cioè compresa a me che adesso sto qua, ma voglio dire, motivi anche per dannarmi oggi mi sono già arrivati, però noi siamo sempre positivi, questo dobbiamo fare. Bene, buona fortuna. Grazie.